Ok sono vestiti tutti della mia taglia però ve li voglio far vedere addosso a lei quindi tipo io vi farò vedere tipo i vestiti poi ve li farò vedere tipo un po provati da me e un po provati da mia sorella che la farò apparire tra 3 2 1 Eccola qui Benvenuta a Kiki nel mio canale di nuovo lei è tipo è stata la mia prima invitata speciale del mio canale E ora è di nuovo qui con noi e vi faccio vedere Direi che c'è un post Ok Allora questo qui è un pacco E' conosco ma non è solamente questo ce n'è anche un altro Ed è pure questo abbiamo due pacchi da provarci le robe Due pacchi da provarci le robe? Due pacchi da provarci, come si dice? Due pacchi da provare le stucce Ok e quindi ora faremo un unboxing cioè un how you see Ok il primo è Allora l'avevo già aperto Ed è questo qua Che sono dei pantaloncini e un top C'è una fila che spacca il box Allora il primo è questo topino qui Con appunto come vedete qui due colori diversi Con il rovescio Due colori diversi nero e grigio E poi il pantaloncino è così Sempre nero e grigio E questo qui lo proverò la Kiki e io provo un'altra cosa Tieni un attimo amore Io mi proverò questa qui Questa gonna Questa gonna Mi proverò questa gonna che ho visto che è molto sempre L'avevo già provata mi sembra che l'ho presa un po' grande Perché io veramente penso di essere molto molto Invece invece non lo sono Ho preso questa gonna qui così Che ha la cerniera Che ha la cerniera e questi sbalzi qui Quindi ora la Kiki prova quelli e io questi Ok allora Prima la Kiki Questo qui è l'outfit Ovviamente lei sta più grande perché sono taglie mie Però guardate quanto è bello Ti pizzica o è morbido? No è morbido Vedete che è molto morbido C'è il pantaloncino Poi vedete che tipo fa incrocio con il grigio qua E il nero così È molto bello Io l'avevo già messo È molto comodo È molto bello Invece io Allora la lavaglia è lasciata sempre Perché l'ho preso al mercato Però la gonna è questa qui Allora mi sta un pochino larga Perché io non lo so Io prendo sempre la L ma ormai sono una M Mi sta un po' larga qui Però è molto bella Molto È molto carina Boh Forse se avessi preso una M Se avrei Boh Qualchè Sarebbe stata più carina Sarebbe stata anche un pochino più corta Sarebbe stata anche Se avessi ok Sarebbe stata più carina Quindi Sì Prendete la vostra taglia Non fate come me Che poi sono le cose grandi Andiamo avanti Ora La Kitty Vediamo Proverà Questo qua Che io l'ho provato Mi entra Però non mi piace Non mi piace come mi sta Quindi questo qui È un bellissimo pantaloncino Io Non lo so È una L però Boh Forse è a vita bassa Non lo so Io uso tutto in vita alta Quindi Boh Però il materiale è bellissimo Avevo già un pantaloncino così prima di amarecita Ed è troppo bello È veramente bellissimo Quindi questo lo provo La Kitty Proverà anche questa Qui La Kitty Che è Una maglietta Che è questa qui che io la stra amo proprio L'avevo già vista È fatta così È una maglia normale Solo che qui Tipo questo qui Deve entrare dentro La vita Non so se capita È molto bella Poi copre Le braccia Le braccia Che io odio le mie braccia Quindi Per me è stupenda La Kitty Aspetta guarda con le armate Ok quindi la Kitty Metterà questi vestiti qui Aspettate che la vogliono Questi vestiti qui E io E io provo questi qua Che mi è sembrata Mi sembra una cosa troppo tenera Guardate Io amo queste cose Guardate qui Avocardio 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 quanto è carino E poi il pantaloncino è così Quanto è carino È troppo carino Quindi ora ce lo togliamo Ok Guardate Allora Prima di tutto la Kitty I pantaloni gli stanno grandi Cioè tipo Ci sarebbero due Kitty Qui dentro Ehm Quindi boh Vi darò la mia sorella All'altra Però la maglietta Guardate quanto è bella Cioè tipo Sarebbe Cioè tipo C'ha tipo questa divisione qui Che ti metti la magliettina così Girati là Guardate le braccia Eh Dico per le braccia È tabù bella E la porta davanti è così Semplicissima I pantaloni sono Tutti pizzicano No Ecco Ehm C'ha le tasche sia davanti che dietro Un pantaloncino normale Molto bello Giratelo se non ti cadono E poi invece qua È appunto la magliettina Che voi La usano per stare a casa Ma anche per uscire Non me ne frega Troppo bella I pantaloncini Guardate quanto sono carini Piene di avocadi Con un lacettino qui Diretelo così Troppo carino Andiamo avanti E questo qua Ah Ho preso questo pantaloncino Che è tipo Alle ragazze Che sono magari Hanno le gambe molto magre E secondo me è più bello Io ho le gambe molto grosse E Non mi piace come sta Però magari a voi piace A voi piace Vi sta bene Quindi questo lo metto io Invece La kitty Proverà questo qua Che è Questa gonna Fatta così Proprio Semplicissima Molto colorata E in più Così guardi la zia Così guardi la zia E in più questo toppino qui Quindi proviamo insieme a questo E io invece Pongo questi pantaloncini Allora Questo Allora Prima la kitty Allora Questo qui è il completino È molto carino L'hai messo davanti? Sì Ovviamente a lei sta un pochettino grande In realtà Mi sa che ti sta È una gonna Signorina Quando sei cresciuta così tanto? Ok Quindi questo qui è il toppino Il toppino è un pochettino grande Invece Ma il pantaloncino o la gonna? No Ah Per me E Quindi questa qui è la gonna Aspettate vi faccio vedere Tipo La lunghezza Gli arriva tipo Metà coscia È molto quale Girati E Ecco Così No Fai tipo una giravolta Come le bamboline È molto carino E invece Il pantaloncino che ho preso io È questo qua È molto carino Non stringe per niente È molto carino Non stringe per niente In realtà Me lo ricordavo Me lo ricordavo che mi stava male Invece Boh Mi piace È molto carino Dietro Dietro anche Sono qui i pantaloncini che adesso vanno di moda Che sono tipo lunghi Che è tipo Tipo da maschio Però sono molto carini Mi piacerebbe tanto Ok Ok La prossima cosa che vi faremo vedere io e la Kiki è Allora Questa ve la faccio vedere io Allora Questi Anche se qui saranno più grandi Questi qui Saranno quelli che proverà Allora Il pantaloncino che vi farò vedere è questo Allora Il pantaloncino è questo qui Guardate quanto è carino Sono quelli che vanno di moda adesso Che hanno i loro bottoni E sono tipo arricciati qui Ai dati Guardate il colore quanto è bello Ha le tasche sia No Dietro mi sa che non ce le ha No Sono finte E ha le tasche davanti però Le tasche davanti Ci su Ce ne ho un'altra Ed è molto carino Questo qui lo provano alla Kiki E poi Io vi faccio vedere Vi proverò questa maglia Che ho preso E' fatta così Ha tipo Per chiudere E poi ha il laccio Io le faccio Allora Allora I pantaloncini della Kiki Sono fatti Scusate le urla di matine sottofondo I pantaloncini della Kiki sono così Sono molto morbidi qui Ti vado a vedere nelle gambe Allora Vieni qui dietro Ho fatto così Ovviamente Alessia è grande Ovviamente Alessia è grande Perché la mia taglia Però sono molto poco Vero? Sì Ok Invece La maglia è così Qua Si Si chiude Si chiude Ha fatto bene? Si Ok Si chiude E invece qua Lo puoi legare tipo in vita Lo puoi legare quante volte vuoi O se lo vuoi legare dietro O davanti O così Te lo leghi dietro Come lo vuoi tutto Te lo senti meglio Oppure basta O te lo tieni così Te lo leghi dietro Te lo mancano due fiocchetti E' molto bella A me piace veramente Molto cantissimo Vero che carina? Si E puoi coprire le braccia Le spalle Esatto Continuiamo Quello dopo E' questo Che in realtà Questa Il sito sembrava Più bella Magine Nel sito erano totalmente diversi Invece qui Sono così Non lo so Forse addosso sono diversi Questi quelli provo io Se la Kiki Vi farò provare questo che In pratica E' una magliettina Normale Un toppino Così Giallo Il colore è proprio bello Guardate E poi I pantaloncini Invece sono fatti così E' tipo come quello dell'avocardio E' pieno di fiorellini E' molto carino Quindi questo provo la Kiki E io mi provo questi Pantalonini Allora La Kiki vi fa vedere Appunto il completino Che è il toppino E poi ci sono I pantaloncini sotto I pantaloncini Arrivano tipo A me arriveranno tipo Metà coscia Anche un po' più in alto Sono fatti così Sono morbidi Kiki? C'è molto Hai visto? Sono elastici Se ci vuoi dormire Che proprio non è che ti stringe Non ti fa niente Non è che ti senti male Ti senti proprio comoda Quindi Good Invece Invece questi sono i pantaloncini Che vi stavo dicendo prima Direi che tipo Addosso sono totalmente un'altra cosa Sono molto carini Se fossero dei pantalonini Sarebbero stupendi Solo che Arrivano proprio Al ginocchio Arrivano Dietro sono molto carini No Se fossero i pantalonini Sarebbero perfetti Però Sì Sono fino a qua Fino al ginocchio Sono molto morbidi Non stringono per niente Hanno le tasche qui E hanno anche le tasche dietro E niente Perché con questa magliettina Ci sta anche bene Andiamo avanti Massimo È questo qua Che lo proverà la Kiki Sì Pronti La Kiki si proverà Questo pantaloncino Che è così Stai registrando amore E ok Questo qui è il toppino È fatto così C'ha delle righette E poi Matti cos'hai? E poi c'è Il pantaloncino Nero Normale Molto semplice Molto suocca plus Tieni Kiki Questo lo provi te Invece mi provo questo qui Che è quello che avevo prima Questo qui è il pantaloncino E invece il toppino È fatto così Con le lune Allora Prima di tutto Vi faccio vedere la Kiki Ha il toppino Con le righette Così È molto carino Ovviamente a me sa tipo Come questi qui Il pantaloncino invece Vai con dietro amore E arriva sempre tipo Tipo qua Un pochino più Un pochino più in basso di questo È molto carino Ti pizzica qualcosa È molto bello Invece questo qui è quello che ho io Sempre pigiamino Questa era casa Molto semplice Questo toppino con le lune così E poi è pieno di lune Anche qua con un fiocchetto È molto semplice È carino E via Ora invece Vi farò vedere questo qua Allora Qui si può Questi? Che sono? Le pantaloncini Sono questi pantaloncini così Sono molto grigli Il colore è bello vero? È bello il colore Tipo un unicorno Che ci avevo invitato un unicorno È così C'è una maglietta quella questa Sì? Sì Ok, prova questi qui No E questi qui Ti ce l'ho proprio voglia Questa qui invece la provo io Ma ti sta andando di mante Mi dispiace Sta giocando lì Non piange Sta giocando Questa qui è la gonna che provo io Quella veduta è bella Ehi cincini! 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 Questa qui appunto è la gonna Quindi adesso via la Kiki Ce la proviamo Allora prima di tutto Guardiamo la Kiki Oddio sono qua Ehm Ha i pantaloncini Ovviamente a me stanno più stretti Lo ripeto ancora E sono così Arrivano a metà coscia Guarda dietro vuole A me arriva la metà coscia A lei arriva la ginocchio In questo lontano Io sono molto morbidi vero? Sì Sono proprio morbidissimi Vero? E invece io ho questa gondina qui Che non so proprio quando la metterò Non lo so proprio Però è molto carina Eh? Sì È molto carina Ok andiamo avanti La Kiki si proverà questa maglia qui Che è un maglia normale Questa semplice E io invece ritroverò questo qua Che è un vestito Tieni! È un vestito Così L'ho preso così Per andare La sera al mare Una cosa di genere Così Nero Con delle palline Così E così Nelle Nelle maniche E c'ha Il suo centrino Sì Allora All'avanti si è tormentato Quindi devo parlare Un pelino più piano Comunque la maglia è così Mi piace perché è molto larga qui Quindi copre anche le braccia Scusatevi che siete storti E ha una taschina Fai vedere la taschina Kiki? Ha una taschina quindi Se volete metterci qualcosina Ci sta Invece questo qui È il vestito È veramente molto carino Guardate C'ha la cinturina qui Qui se volete Potete chiuderlo fino a Qua sopra Fino qui Se voi siete delle donne dotate Quindi vi sarà un pochino più Così tipo Però è molto carino Tornate la maglia anche È molto carino Ok Adesso 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 Che è un vestito normale Molto normale Molto normale Molto normale E si chiude qui Con i bottoni E qua C'ha i laccettini Così Normalissimo Vedete Kiki? E invece provo questo qua Che mi è arrivato l'altra volta Sempre di quella marca Cioè sempre di questa marca Che è questo qua Sono simili Sono carino Sì E io invece provo questo qui E sempre quelli per andare al mare Sono così Questo è pieno? No Sono margherite Tutti e due Guardate quante sono carine Quindi Ora ce ne proviamo Kiki Ok? Vai 1, 2, 3 Allora I vestitini sono fatti così Questo qui è il mio Io lo metterei con una cinturina Se devo andare al mare Sì Me lo metto così e via Però se dovessi uscirci anche Per magari uscire Ci metterei una cintura Infatti Un'altra volta l'avevo utilizzato Con questa qui Con una cintura così a caso E mi stava proprio bene Perché se leggi qui Ti fa tipo La campana qui E invece la Kiki ha questo qua Di più colore Anche questo per andare al mare Qui c'ha la chiusura Ovviamente a metà Tipo come questo qui E' fatto così Sotto c'ha tipo No Sotto è normale Molto surc plus La parte dietro invece E' scoperta così E c'ha tipo qua Dell'elastico Che si Si aprirà ancora di più E' molto molto carino Vero Kiki? E poi qua c'ha Per stringere C'è tipo come Per stringere come L'ingesimo ecco L'esco Andiamo avanti L'ultimo che trovo E' questo qua In realtà Vi pensavo fosse una gogna Che devo essere sinceri Devo essere sinceri E così La cosa che non mi fa impazzire E' che qua è tipo Boccolato Non so come dirvelo E così E poi invece La cosa bella E' la parte sopra Ok Sembra una cosa Così a cavo Ora ve la faccio vedere addosso E dopo la Kiki Vi fa vedere anche questo qui Allora Come vi dicevo I pantaloncini Non è che mi fanno impazzire Tipo a me Che persona Michelle Non mi piacciono queste cose Forse a voi piacciono queste cose legattose Ma A me non mi fanno impazzire Invece La parte sopra è troppo bella Allora si lega qui E poi Si lega anche qui E' molto carino La parte sopra Mi fa impazzire La parte sotto Se non fosse per questi qui Sarebbe proprio bella Guardate Cioè Tipo E invece La Kiki Vi fa vedere la maglia Va vedere Ma Allora Questa maglia Invece L'ho presa Per Mo Solo che a Mo Sta un po' grande Quindi Se Gliela farò riprovare Se a Mo non piace Gliela manderò A mio nonno Che Mia mamma Va in Ecuador A dottobre Novembre E quindi Mio non le usa molto Queste magliettine Se a Mo non piace Le lado a mio nonno Però è molto carina La tela La tela è proprio morbidissima Non è rubidosa Ha questo qui nelle braccia Poi c'ha il colletto che è fatto così E' una taglia S E' così E' molto carina L'avete visto? E niente Questo qui Vieni Kiki salutare? Vieni E niente Questo qui Era il video Del Howl Unboxing Di tutti questi vestiti Insieme a mia sorella E quindi Ringraziamo la Kiki Che è venuta qua Ad aiutarmi a provare Tutti questi vestiti Vi lascio tutti i link Tutto quanto Giù in infobox E poi Cos'altro? Se c'è un codice sconto Comunque Ve lo scrivo tutto Tutto giù Il link E niente Quindi spero che vi siano piaciuti molto Questi vestiti Io la Kiki A lei E' vero che ci sono piaciuti tanto? Sì E quindi si Ve li consigliamo tantissimo Per qualsiasi domanda Lo sapete già Nei commenti E nel mio instagram Che ve lo lascio qui E anche join in infobox Ciao